Buon momento! Novanta minuti giocati Diego Armando Maradona. Sì, novanta minuti giocati, ero un po' stanco, ho 53 anni. Ma sei l'eroe della serata e ancora sempre, diciamo, il numero 10 proprio. Sì, soltanto che Icardi non doveva giocare. Eh no, comunque, quello che ha fatto le squadre, le squadre mi avevano promesso che Icardi non giocava, ha giocato, per quello sono incastato. Un po' di polemica! E non sarebbe Diego, senza un filo di polemica.